Molte persone che hanno già acquistato Dyson Airwrap ci chiedono perché dovrebbero acquistare anche Dyson Corral. Corral è una piastra dotata di speciali lamine flessibili che bracciano la sciocca. Questo permette di realizzare un liscio perfetto e uno styling estremamente definito. Corral può essere utilizzata sia con filo che senza. Ad esempio potremmo utilizzarla in bagno collegata direttamente alla corrente oppure in camera di fronte allo specchio in modalità core free. Corral ha un'autonomia di 30 minuti in base alla temperatura che andiamo a selezionare. Questo ci permette di poterla utilizzare oltre che in casa anche fuori. Ad esempio possiamo portarla in ufficio, in palestra o ovunque non vogliamo. Anche perché non è per niente incombrante. Possiamo riporla direttamente all'interno della sua pochette che tra l'altro è realizzata in un materiale termoresistente. Corral è travel friendly perché è dotata di un voltaggio universale. Questo significa che possiamo portarla in viaggio con noi ed utilizzarla in qualsiasi paese del mondo. Mentre Airwrap esprime la sua massima potenzialità sui capelli umidi, Dyson Corral si utilizza direttamente sui capelli asciutti. Questo significa che possiamo utilizzarlo in qualsiasi momento della giornata sia per la prima acconciatura che per il ritocco. A presto. 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 A presto.